ti saluto con la pace del signore buongiorno oggi giovedì 8 giugno 2023 sia benedetto in nome del signore e la tua vita sia benedetta nel nome di gesù amen gloria a dio sei contento io sono contento quando qualcuno mi saluta in questo modo il mio cuore sprizza di gioia quindi come fa piacere a me io voglio che faccia piacere anche agli altri quindi il signore ti benedica grandemente da sion e ti possa fare del bene oggi e per il resto dei due giorni comunque questa mattina come ogni giorno vogliamo essere pronti per poter ascoltare la parola di dio sono convinto che questa mattina il signore parlerà al nostro cuore come ogni giorno non è una novità perché perché dio parla attraverso la parola di dio quindi ora la leggeremo la ascolteremo e quindi occhi aperti orecchie aperte e in modo particolare apriamo il nostro cuore per ricevere il consiglio che viene dal nostro padre celeste per mezzo della parola e per mezzo dello spirito santo dice così la parola di cristo il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui così anche voi fate conto di essere morti al peccato ma viventi a dio in cristo gesù non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze questo testo lo trovi nella lettera ai romani capitolo 6 i versetti che vanno dal 6 al 12 il titolo di questo messaggio la fine del vecchio uomo avvicinandomi al signore con fede imparo a conoscere dio e gesù cristo suo figlio ricevo una vita nuova la vita eterna in questo modo imparo anche a conoscere meglio me stesso quello che scopro però può scoraggiarmi infatti non solo commetto dei peccati ma mi rendo conto che c'è in me una natura malvagia che produce questi peccati come credente nato di nuovo ho una nuova natura animata dallo spirito di dio per fare il bene da una parte desidero piacere al signore e dall'altra ho la tendenza a peccare l'evangelo mi svela il segreto della vittoria la morte di cristo che ha cancellato i miei peccati mi ha anche liberato dalla schiavitù del peccato che è nella mia carne la mia vecchia natura praticamente questo peccato è stato condannato da dio alla croce se credo a questo ho la vittoria sul peccato e sono liberato dal suo dominio i versetti citati questa mattina ci mostrano tre punti da considerare ciò che dio ha compiuto il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con cristo la conseguenza fate conto di essere morti al peccato questa liberazione è un fatto compiuto da cristo l'applicazione pratica non regni dunque il peccato nel vostro corpo se considero me stesso come morto con cristo per quanto riguarda il peccato esso non può più essere il mio padrone e capisco che la mia vita è legata a quella di cristo posso allora distogliere gli occhi dal male che è in me e vivere in stretta e felice comunione con il mio amato signore amen e questa è la realtà dei credenti nati di nuovo non sono più schiavi del peccato ma sono morti al peccato ma viventi in cristo quindi il potere che ha il peccato non agisce più su di noi in maniera violenta ovviamente non fraintendetemi io non sto dicendo che io e coloro che sono nati di nuovo non peccano mai assolutamente sarebbe saremmo perfetti e perfetto c'è solo gesù quindi leviamocelo dalla mente siamo peccatori tutti ma non siamo più schiavi del peccato faccio un esempio se nella mia vecchia vita e lo ricordo benissimo questo era un bugiardo di quello spietato la bugia era parte integrante della mia vita assolutamente quando mi sono convertito quando sono nato di nuovo il pensiero di dover dire una bugia mi mette paura ma tu dirai ma non è mai capitato in questi 12 anni che hai detto una bugia è capitato devo dire la verità è capitato ma non sono più schiavo della bugia anche se è capitato è capitato una volta io ho chiesto perdono con le lacrime perché quando un credente è nato di nuovo pecca non è la stessa cosa di uno che non ha cristo nel cuore quando noi pecchiamo lo spirito di dio ce lo fa sentire e ci rattrista talmente tanto che ci porta poi al ravvedimento quindi non siamo perfetti però abbiamo una certezza che il sangue di cristo ci purifica da ogni peccato e da ogni iniquità quindi fratello sorella gioisci insieme a me perché la vita è ancora bellissima alleluia gloria al signore questa mattina vogliamo concludere questa meditazione voglio darti due informazioni la prima quella che vedi qua non è la bottiglia di vino chissà te sembra che c'è un litro e mezzo di vino a portata di mano è una bottiglia è un liquido un acqua drenante ecco che sto iniziando a usare essendo che corro faccio bicicletta quindi mi aiuta a buttar via i liquidi in eccesso quindi in estate lo uso in abbondanza ecco quindi è una bevanda chissà te sembra qualcos'altro ecco vabbè altrimenti se fosse così sarei stato poi proprio stupido a metterla così in vista la metto qua perché non mi interessa ecco comunque volevo ci teneva a dirtelo non si sa mai qualche fraintendimento è meglio evitare la seconda cosa è che ci è arrivata una richiesta di preghiera e questa mattina vogliamo pregare per ivana non ci ha specificato cosa ha ha scritto solo che ha un problema quindi noi vogliamo presentarla al trono di dio e pregare per lei come il signore ci chiede intercedete per i santi noi vogliamo pregare per lei quindi ti invito a chiudere i occhi se lo puoi fare ovviamente se non lo puoi fare preghiamo insieme lo stesso perché la preghiera del giusto ha una grande efficacia dice la scrittura quindi presentiamo ivana al signore va bene alleluia gloria a dio signore ti vogliamo ringraziare perché ci hai risuscitati dai morti e non siamo più noi che viviamo ma è cristo gesù che vive in noi amen gloria a dio ti diciamo grazie con tutto il cuore e ti vogliamo pregare per ivana non sappiamo cosa tu la conosce e sai cosa ha un problema non sappiamo quale ma tu lo conosci perfettamente noi ti chiediamo tutti insieme ci stiamo accordando padre celeste nel chiederti questo nel nome di gesù cristo risolve il problema di ivana viene incontro a questa ragazza viene incontro al suo bisogno e aiuta la padre dalle tu la forza necessaria e quello che gli serve per poter dare gloria al tuo nome signore poi vogliamo pregarti anche per ognuno di noi noi siamo qui desiderosi e bisognosi di ricevere ancora una volta la tua benedizione quindi ti prego benedici la mia vita ma benedici anche tutti coloro che stanno ascoltando e guardando questo video benedici di una benedizione abbondante signore e che tu possa esaudire i desideri del loro cuore secondo la tua volontà padre celeste ogni grazia ogni preghiera ogni richiesta noi la facciamo davanti a te nel nome di gesù cristo il tuo figliuolo benedetto in eterno amen amen ivana se stai guardando questo video avanti con forza perché sai una cosa più che vincitori siamo in gesù amen siamo più che vincitori quindi gioisci alla presenza di dio e vai avanti il signore ti benedica il signore ci benedica da sion pace fratelle